Sto signore scende sotto casa sua per fare un po' di spesa quotidiana e passeggiando per le stradine limitrofe alla sua palazzina nota che ha aperto un nuovo piccolo alimentare proprio vicino al suo portone allora entra dentro questo nuovo alimentare e dice al commesso salve ma che lei ha aperto da poco per caso io non l'ho mai vista qui in zona certo signore guardi ho aperto proprio ieri ah beh interessante senta ma come sono i suoi prodotti me li consiglia? ma signore ma lei chiede all'oste come il vino ma certo che i miei prodotti sono eccezionali non c'è dubbio provare per credere beh certo guardi se lei è così persuasivo li devo provare per forza allora guardi mi fa subito un etto di prosciutto crudo un etto di prosciutto cotto e poi due di quelle mozzarella di bufala me le consiglia? ma signore forse lei sta scherzando se gliele consiglio quelle sono le mozzarella di bufala più buone d'Italia beh guardi allora in tal caso le prendo senz'altro insomma questo gliel'è far conto allora fa allora per il prosciutto crudo sono 3,60 euro per il prosciutto cotto sono 4,90 euro certo le mozzarella di bufala 250 grammi cada una sono due mozzarella mezzo chilo di mozzarella totale ebbè sono 36 euro che ha detto scusi ma che lei sei impazzito ma che mezzo chilo di mozzarella di bufala 36 euro ma signore ma lei osa mettere in dubbio la mia professionalità ma lo sa che queste sono le mozzarella più buone d'Italia pensi che queste mozzarella arrivano direttamente da Mondragone ah sì io mi credo che veniano da Montecitorio insomma c'è una signora che entra dentro un alimentare allora va al banco dei salumi e dei formaggi e dice al commesso buongiorno vorrei due etti di prosciutto crudo grazie certo signora gli ripreparo subito insomma sto commesso mette l'incartata del prosciutto sulla bilancia inizia a tagliare sto prosciutto e fa uno strato sottile sottile di prosciutto e sopra sto strato gli mette 4 strati di carta allora taglia un'arte 3-4 fettine di prosciutto gli fa un'altro strato sottile sottile di fette di prosciutto e sopra gli mette altri 4 strati di carta allora taglia ancora altro prosciutto gli fa uno strato sottilissimo di fettine di prosciutto Gli mette altri 3-4 strati di carta Gli chiude l'incartata Gli fa il conto Gli dice ecco qui il suo prosciutto signora Sono 12 euro e 60 Ma scusi eh 12 euro e 60 Duetti di prosciutto crudo Ma poi scusi eh Nel peso del prosciutto Mi ci ha messo pure tutta quella carta Eh ah signora Che facevo io lo mettevo in mano Eh in mano no ma manco nel sedere Era bello Era bello